Continuiamo avanti, un pezzo, questa volta lo comincia lui, il bassista Carlo, vorrei pregarmi una cosa, è l'ultima volta che suona con voi, ci lascia per cose private e io l'ho capito completamente, per favore fatemi questo favore, al mio tre, alzate tutti il dito medio, va bene? Carlo, questo è for you, uno, due, tre Aisha, ho un'ultima, hai un'ultima, hai un'ultima, hai un'ultima, è l'ultima, hai un'ultima, hai un'ultima, hai un'ultima, hai un'ultima Ho un'ultima, ho capito, cosa è successo Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Grazie a tutti Grazie a tutti